Riqualificare il quartiere Europa-Novacella-Bolzano attraverso interventi a livello urbanistico e iniziative commerciali. È l'obiettivo del progetto denominato Centro Commerciale Naturale per una a Bolzano non più centrodipendente per quanto concerne l'offerta di negozi. Il progetto, che si rifà ad analoghi studi di fattibilità eseguiti a Degna e a Santa Cristina in Valgardena, è stato illustrato alla sede di Confesercenti in Via Roma, alla presenza degli assessori comunali Claus Ladinsere e Chiara Pasquali, del presidente di Confesercenti Domenico Sacco e della coordinatrice del progetto Claudia Masera. Il progetto vedrà il coinvolgimento di circa 200 attività suddivise tra negozi, attività artigianali e attività di servizi. Verrà realizzata anche un'indagine socio-economica che prevederà anche il coinvolgimento della popolazione. Verranno anche realizzate attività di marketing. La proposta è quella di individuare magari un logo comune per tutti gli esercizi dell'intera zona. Il progetto dovrebbe concludersi entro l'anno. La fase iniziale del progetto, che si concluderà a fine 2011 e riguarderà le vie Milano, Torino, Palermo, Dalmazia e Piazza Matteotti, comprende un tavolo di concertazione a cui parteciperanno le categorie interessate, un'indagine preliminare per capire le esigenze degli operatori e l'attribuzione di responsabilità secondo il modello del project management. L'iniziativa è sostenuta dall'assessorato provinciale al commercio e coinvolge anche il comune capoluogo, cui spetterà il compito di attivare le iniziative emerse dallo studio di fattibilità. Questo progetto ha una grande validità perché penso che dobbiamo pensare come riorganizzare il commercio al dettaglio nei quartieri. Ho parlato prima di qualità di vita nei centri abitati e questo mi sembra che è sicuramente non fattibile se non con il commercio sul posto. Questo per noi è sempre stata una strategia importante e su questo mi batterò anche perché dà qualità di vita e sulla quale spendiamo tante parole.